Il 3 e 4 marzo le 10 finaliste alla candidatura capitale della cultura 2024 presenteranno la loro relazione definitiva davanti alla giuria del ministero della cultura. Da pochi giorni Pesaro è entrata nella short list delle 10 finaliste assieme alla corregionale a Scolipiceno, oltre che a Vicenza, Chioggia, Grosseto, Viareggio, Sestri Levante, Pestum, Mesagne e Siracusa. Pesaro dunque si tuffa ora anima e corpo nel rush finale di un mese che completerà un lavoro che è stato capillare sul territorio, allargato l'intera provincia e sviluppato fra la creatività dei quartieri cittadini. Siamo fiduciosi su questo mese importante che si aspetta prima delle audizioni, lavoreremo a rimotivare ulteriormente tutta la rete degli artisti e dei comuni e dei territori che hanno partecipato, dei 50 comuni della provincia a questo progetto e a battere su quelli che sono gli elementi cardini, ovvero una candidatura basata sul patrimonio culturale, sul tema della sostenibilità e il tutto legato però anche dall'innovazione tecnologica e digitale. Su questo il progetto di Sonosfera, sia nel suo racconto legato ai cambiamenti climatici, sia rispetto al racconto di Raffaello con il suono in digitale e in Sonosfera, sono sicuramente due progetti cardini e due elementi simbolo. Alla capitale della cultura sarà destinato un milione di euro dal fondo per lo sviluppo e la coesione, ma il comune di Pesaro è pronto ad investimenti ben più corposi di fronte alle prospettive di visibilità e sviluppo territoriale che comporterebbe una simile vittoria. Oltre al tema che è previsto un contributo di un milione per le attività culturali che abbiamo già deciso di destinare in grande parte al territorio provinciale e quanto questa cifra e comunque diciamo questo movimento può creare in termini di moltiplicatore, di risorse, tant'è che il budget complessivo della manifestazione per quello che ci riguarda per il 2024 abbiamo inserito una cifra di 6 milioni nel budget di previsione del progetto perché appunto si considerano tanti moltiplicatori dati dall'apporto dei festival, dati dalle sponsorizzazioni, dati da altri canali di intervento che danno un po' questa misura quindi già questo è un anno straordinario che tutto il nostro territorio provinciale potrebbe vivere. Inoltre c'è un tema naturalmente di visibilità dato dalle coperture televisive, dal racconto, dagli speciali che vengono dedicati, dal fatto che la città capitale diventa come dire un po' l'ambasciatrice anche dell'Italia nella promozione all'estero come in questi giorni con Procida, come è stato con Parma fino a poche settimane fa. Insomma si rischierebbe di essere per un anno una sorta di seconda capitale italiana col rieletto presidente Mattarella pronto a far di nuovo Capolino Pesaro dopo la sua presenza all'ultimo Rossini Opera Festival.